oh dio santo questa figa imperiale ok prego per te guarda fanno parecchi danni esatto di lui sono sembrato interessanti fan cagare vabbè camilla raga degli dèi camilla va vai tranquillo muy bien una prossima volta raga mai più ninja di pokemon scravato allora giovanni il nostro amico lgbt credo credo fosse al 221 fammi vedere al 221 era no col cazzo raga col cazzo no 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 vieni immediatamente qua a te sì 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 puoi essermi utile repellente max sì 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 non è abbastanza soldi appena spesi abbiamo un problema raga chi cazzo impara se c'è il mio team beat off c'era buizzo raga vicino la città dei fiori mi sembra che buizzo lo possa imparare no 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 la pantagana un visual un visual un visual per cortesia un visual benissimo no ma porco si raga una Pensavo di vendere qualcosa Ma una basta e avanza Appena quel buizel rivede Il mio ninjask Con quegli occhi che fa Lo mangia 3 anche No niente falso finale raga Qua se lo sono saccagnati Il miele è altro che Cellos Cellos può imperare Cellos Cellos Dati di gioco Controllare Quarta generazione Tramite man Quante gym? 3? 5 Ma porca puttana Ma vaffanculo Bella lasciata Secondo me Gli amici con Su Aldo Uncut Secondo me si divertono un sacco Bendy Tipo un quarto d'ora di video E un'ora di gameplay Ora ho il 99.99% di riuscita Voglio proprio vedere Faccio Faccio Che mossa conosce Cal set Ma va in figa Rafforzatore Fangata Comunque raga In pochi ci pensano A questa roba qua Io quando arrivo a letto Raga sono ancora in 4x Ristacco e vado a letto io No vai figa Va come surfa Dai sta lumaca qua Weasel Al 28 Oh ma è fortissimo Rubalo Seeking Che cazzo è Seeking Pallombra Punto colpo Medici Via Via Affanculo Questa qua usa Mediciam che sta mutando Ma cazzo mi scello su wingal No Basta 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 Raga io Raga io me lo sono sognato di note Di arrivare qua Posso Chalos Questo Chalos molto pericoloso Va Ma Baffanculo Stes Sberle Ghi ha tirato Gastrodon Il padre Va Corpo scontro Borsa Antiparalisi Vale Di stare a giocare Un altro gioco Raga Comunque con Questo speed Primo trovo Proteina Per terra Raga No Vado dal parco A cercare le proteine Dal parco amici Ce lo tieni per te Io non ho amici Ippopotas Vediamo come si comporta Ippopotas Dopo facciamo anche La challenge Con Ippopotas Ciao Aldo Ave No Ma Guarda che schifo Dai Non offenderla così Cazzo È una bellissima donna Cazzo Grobby Grobby Guarda che ti declasso Oh shit Dai c'è anche il fanta allenatore Ma dai Ma no Ma non mi devi dimostrare niente Valentino Starevi anche Oddio Dai non usarmi E tacco d'ala Grazie Panda Sei Un tesoro Cazzo Un tesoro Si cerca Un tesoro Trova Pandastic Raga Ecco Grobby Invece De De Spamma Merda Fanno Shout A questa Signora Un effetto Mi ha appena notato Una mossa Psico Come della Merda Rugito Dilucere Olla Olla A rapporto Questo qua ragazzi è il pass per la lega pokemon Bene L'accelerazione ha fatto soccorso E questo raga è anche il setup con il quale andremo alla lega probabilmente Dunque Che cazzo devo fare Dobbiamo andare a Vendo l'effetto repellente Adesso Vamos E andiamo E andiamo Cazzo repellente Devastante Devastante Ovviamente raga la lega si farà con le animazioni Ma questi qua non me ne frega un cazzo Poi la lega raga sarà Un video a sfida Mantaic Forbic X Forbic X raga Letteralmente Prende un pokemon Lo guarda E fa così Lo purga Questo è un problema Noi siamo più veloci Palla ombra Lo buttiamo giù Al tappeto 47 Chi sei? Ah il padre di Lucinda Ok Ok Ah si vedono le foto di maschio e femmina E me cazzo